è giusto però è giusto dire le parolacce in un luogo pubblico quando sono lavorato hai detto una chiesa signor io mi sono fatto papà oggi vabbè dai papà andiamo che ho voglia di manna fanculo qualcun altro se scarico tutte le nuove ucce è una donna ragazzi è vero si è vero portatevi via signora non ti prendete più te vi ho passato a te spacco tutto sul testo da merda fai da torto passo io perché c'è la mascherina non è per mezzo in pici per lo stronzo grazie 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 grazie